Il voicebot o assistente virtuale fa parte delle capacità innovative che un moderno contact center può offrire per migliorare la customer experience. Si tratta di un software capace di gestire una conversazione vocale ed è basato su sistemi di intelligenza artificiale e machine learning. Un voicebot agisce con tre distinte fasi. Prima ascolta il messaggio in linguaggio umano naturale traducendolo in testo con sistemi di speech to text. Quindi comprende e analizza la richiesta con sistemi di natural language understanding. Infine risponde in forma audio mediante sistemi di sintesi vocali, cosiddetti text to speech. Bismatica offre alle aziende la possibilità di implementare un voicebot integrandolo con il proprio contact center e con il proprio ecosistema aziendale, utilizzando le tecnologie oggi più avanzate presenti sul mercato, come quelle offerte da Google, Amazon, Microsoft e tanti altri fornitori di tecnologia. Un voicebot viene progettato per prendersi carico delle richieste dei clienti, sia che si tratti di risolvere un problema che di semplici richieste di informazione. Gli assistenti virtuali sono quindi in grado di automatizzare le domande ripetitive e gestire le attività in cui non invia un reale valore aggiunto dagli operatori. Ad esempio, se un cliente chiama per bloccare una carta di credito, un assistente virtuale è in grado di gestire le varie fasi del processo in completa autonomia senza coinvolgere alcun operatore. Il voicebot può anche fungere da filtro per tutte le chiamate che arrivano al customer care. Alcune sarà in grado di gestirle autonomamente. Le richieste più complesse verranno girate agli operatori umani. In questo modo è anche possibile eliminare completamente la tradizionale a navigazione IVR mediante menu e pressione dei tasti di un telefono. Un assistente virtuale può essere utilizzato anche in modalità proattiva per raggiungere i clienti ricordando ad esempio le loro scadenze o eventuali rinnovi, oppure per proporre offerte personalizzate o raccogliere dei feedback o ancora per completare un modulo dati. Questi sono solo alcuni degli esempi in cui è possibile utilizzare un voicebot e che senza l'utilizzo del voicebot utilizzerebbero e impiegherebbero tempo prezioso di un operatore umano. I vantaggi offerti da un voicebot dipendono ovviamente da casi d'uso in cui vengono impiegati. Ci sono comunque dei vantaggi generali che è possibile individuare. Innanzitutto un voicebot è in grado di ridurre il tempo di impiego degli operatori perché sono coinvolti solo quando è strettamente necessario e per questione di loro competenza. Un voicebot agisce e funziona 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed è in grado di gestire eventuali picchi di domanda giornaliera o gestire periodi complicati come quelli legati a promozioni o festività. Migliorano inoltre tutti gli indicatori di un contact center come i tassi di abbandono, i livelli di servizio o i tempi di attesa in coda. Migliorano anche la soddisfazione dei clienti risolvendo le loro problematiche in tempo reale ed efficacemente. Infine, ma non per importanza, un assistente virtuale è in grado di migliorare la soddisfazione degli operatori che possono concentrarsi su attività più gratificanti ed impegnative, contribuendo in questo modo alla riduzione del turnover e rendendo più efficiente la loro formazione. Grazie per la vostra attenzione.